Allora, benvenuti. Cominciamo, così sarà una sessione dove vedremo diverse cose e anche una demo, quindi cominciamo. In questa sessione vi spiegherò WebSocket, che cos'è e come fare a costruire una web application che usa WebSocket. Allora, questa è una pagina che spiega un po' quello che faccio. Sono un software ingegnere e lavoro per Intalio. Intalio è una società che si occupa di dare supporto per due prodotti open source. Uno è Jetty, che è un server container, diciamo, equivalente a Tomcat, concorrente, termine migliore. E l'altro è un progetto, invece, che si occupa di web messaging, che si chiama CometD, di cui l'anno scorso ho tenuto uno speech proprio qui a Codemotion. Sono anche un long time open source contributor. Ho contribuito a diversi progetti, tra cui JBoss, Jetty, CometD, MX4J, che è un'implementazione di JMX, Foxtrot, insomma, altre robe, eccetera. In Intalio ci occupiamo, in particolare, di performance tuning di applicazioni web su, diciamo, numeri grossi, quindi tantissime connessioni, tantissimi client, bassa latenza. E quindi ci occupiamo anche di tuning della Java Virtual Machine. E io, in particolare, lavoro sui protocolli web, quindi HTTP, WebSocket e, recentemente, Speedy, che è un nuovo protocollo che è stato, diciamo, è in corso di definizione da parte di Google e poi con l'Engineering Task Force, di cui, in Jetty, abbiamo già un'implementazione. Quindi, se voi andate online su www.webtide.com, che, diciamo, è il sito della compagnia da cui arrivo, che è stata poi comprata da Intalio, webtide.com viene già servito adesso col protocollo Speedy. Quindi potete provarlo, poi, casomai, ne parleremo, ma... Diciamo, oggi, WebSocket. Allora, vedremo che cos'è WebSocket. Vedremo le api che ci sono a disposizione nei browser. Vedremo le api che ci sono a disposizione sul server per scrivere applicazioni web, WebSocket. Vedremo una demo e poi ci sarà una sessione di question and answer. Quanti di voi hanno già usato WebSocket? Pochi. Quanti di voi hanno già usato qualche altra caratteristica di HTML5, tipo audio-video, local storage e quant'altro? Ok. Allora, WebSocket è lo standard web per la comunicazione bidirezionale sul web. Questo tipo di comunicazione è sempre mancata perché il protocollo HTTP, come sapete, è sempre iniziato dal client, cioè è un protocollo basato sul paradigma request-response, e quindi è sempre il client che deve chiedere qualcosa al server e il server può eventualmente rispondere. Questo ovviamente fa sì che tutta quella serie di applicazioni, quella classe di applicazioni, che richiedono o che hanno degli eventi lato server, immaginatevi, vi arriva un'email sul mail server, dovete aggiornare la pagina sul browser, vi arriva per esempio un giornalista, per esempio, fa la cronaca live di un evento sportivo, aggiorna un server e vuole questa, gli update devono essere distribuiti a tutti i client che stanno guardando, stessa cosa per il cambio del prezzo di una stock option, scommesse online, giochi online, chat, qualsiasi altro genere, questo tipo di applicazioni, ha sempre sofferto di questo problema perché non era mai possibile che il server prendesse l'iniziativa e spedisse un messaggio al client. Il protocollo WebSocket è stato appositamente progettato per sopperire a questa mancanza. Il lavoro sul protocollo è cominciato nel 2009 ed si è prolungato fino al 2012, adesso il protocollo è uno standard a tutti gli effetti, in particolare all'engineering task force che si occupa dei protocolli web, con il numero di 6455, il lavoro che c'è stato dietro è stato veramente complicato, noi abbiamo fatto parte del gruppo di esperti che ha fatto il design del protocollo WebSocket, è cominciato in un modo, sono cambiati credo 4-5 editor della specifica durante questi anni a causa di disaccordi su come il protocollo doveva essere implementato, ci sono stati alcune versioni del protocollo che avevano dei bacchi di sicurezza anche grossi, per cui i browser non li hanno implementati, alcuni browser sì, altri no, c'è stato un momento di transizione in cui il protocollo WebSocket sembrava lì lì per collassare, ma alla fine ce l'ha fatta e alla fine si è anche arrivato un protocollo che tutto sommato è un buon protocollo. Il protocollo WebSocket funziona, è composto di due parti, c'è una prima parte che si chiama WebSocket Upgrade, che è HTTP puro. Dopo questo upgrade c'è un'altra fase, diciamo, dove invece avvene lo scambio di messaggi WebSocket e basta. HTTP e WebSocket sono due protocolli diversi, però WebSocket nasce da un upgrade di tipo HTTP. Cosa vuol dire questa cosa? Ed è molto importante. Vuol dire che WebSocket gira sulla porta 80. Voi non aprite un'altra connessione su un'altra porta. WebSocket gira sulla porta 80 se è in plain text, gira sulla porta 443 se è SSL. Questo è ovviamente molto buono perché riduce al minimo tutti i cambi che si devono fare per l'apertura di porta in firewall, eccetera, eccetera. Per esempio i firewall aziendali sono già aperti su protocollo 80 di norma. Ma qual è il grosso problema legato a WebSocket? Il problema è che, per esempio, un firewall aziendale fa l'ispezione dei pacchetti HTTP che escono per vedere se i dipendenti vanno su Facebook e quindi blocca l'accesso a Facebook. Ovviamente se questo elemento di rete fa un'ispezione del protocollo HTTP e si trova un pacchetto WebSocket, può darsi che non ci capisca assolutamente nulla e che chiuda la connessione. Quindi WebSocket è un nuovo protocollo, così come c'è stata una transizione tra HTTP 1.0 e HTTP 1.1, ci sarà una transizione tra HTTP 1.1 e WebSocket che richiederà che i browser vengano aggiornati e che supportino queste feature. Richiederà che i server vengano aggiornati e che implementino il protocollo WebSocket, ma richiederà anche che tutti gli elementi di rete che ci sono tra una connessione tra un browser e un server, quindi voi vi state collegando a un server negli Stati Uniti, attraversate diversi router, diversi firewall, magari altri elementi di rete, tutti questi elementi dovranno essere aggiornati anch'essi a protocollo WebSocket. Un classico esempio di cui magari molti di voi hanno già avuto, come dire, l'hanno toccato con mano, è il classico esempio di un load balancer. Molto spesso i load balancer vengono configurati per reindirizzare le connessioni da parte dello stesso client su un singolo server, del pool di server che avete nel back-end. Come fanno? Normalmente fanno un'ispezione del pacchetto HTTP, vanno a prendere un header particolare del pacchetto HTTP, che può essere PHP Session ID piuttosto che JSession ID per Java, e dicono, ok, se per questo JSession ID il server è sempre il numero uno, ok? Un load balancer che fa load balancing per WebSocket non può più usare questo meccanismo qua, dovrà basarsi sull'indirizzo IP e porta del client. Questo per dirvi che ci sono dei cambi non banali che devono essere fatti a tutta l'infrastruttura internet, non solo al client e ai server, per supportare al meglio il protocollo WebSocket. Ma questi cambi stanno avvenendo. Questo è l'esempio di una richiesta e risposta HTTP. Vedete, è una GET normalissima. Quello che cambia è che esistono questi quattro header aggiuntivi che dicono, questa connessione HTTP, su questa connessione HTTP verrà fatto un upgrade, l'upgrade parlerà al protocollo WebSocket, e questi sono due header aggiuntivi che sono stati aggiunti dagli esperti di sicurezza che hanno collaborato alla definizione protocollo per far sì che il client possa in qualche modo, inequivocabilmente, sapere se il server parla veramente WebSocket. In particolare, questa stringa viene reinterpretata dal server e rispedita al client dopo una fase di processing, per cui il client, se sa che ha spedito questa stringa, se la stringa che si ritrova in risposta matcha lo stesso algoritmo, sa, è sicuro, che il server, e non solo il server, tutti gli intermediari che ci sono nel mezzo, supportano protocollo WebSocket. Ok? Il tipo di risposta, qui non lo vedete, ma non è 200K, come è il classico del protocollo HTTP, ma è un tipo particolare di risposta che è sempre stato supportato dal protocollo HTTP, che è 101, switching protocols. Questa cosa non è stata un'aggiunta che ha dovuto fare il protocollo WebSocket ad HTTP, è sempre esistita. Sempre esistita perché storicamente si prevedeva di aggiornare una connessione HTTP in plain text a una connessione SSL. Questo era il motivo di questo codice HTTP, ma è stato riusato per il protocollo WebSocket. Questo, invece, è il formato di un WebSocket frame, di un messaggio WebSocket. Lasciate perdere, insomma, è molto complicata, ma la parte veramente importante è questo quadrato qua. Sono i primi due byte di ogni frame WebSocket. Il primo byte contiene quello che viene chiamato un opcode e un bit per dire se questo è l'ultimo frame nel corso di quella connessione. Dopodiché c'è un altro byte che specifica la lunghezza dei dati che seguono. Questo byte ha una lunghezza variabile. Ovviamente in un byte voi potete al massimo avere un frame molto piccolo, perché si va in questo caso fino a 125 byte, ma è molto comune che i frame WebSocket siano di questa dimensione. Se le dimensioni sono superiori, allora questo byte assume un valore particolare, 126 o 127, e questi byte aggiuntivi specificano una lunghezza del payload superiore. Si arriva fino a 8 byte, che praticamente, insomma, potete spedire quello che volete. La cosa fondamentale che dovete capire è questa. Il protocollo WebSocket è semplicemente un protocollo di framing che viene aggiunto sopra TCP, cioè vi dice solo quanto sono lunghi i dati che spedite sulla connessione. Per WebSocket i dati che voi spedite qua sono totalmente opachi. Non ci sono informazioni sul... diciamo, non qui. Ci sono alcune informazioni nell'opcode per quanto riguarda il tipo di dati che spedite, ma è una definizione molto grossolana. c'è solo una divisione se sono testuali o binari. Dopodiché, se voi dentro qua ci mettete JSON, ci mettete XML, ci mettete un protocollo che vi siete inventati voi, ci mettete addirittura HTTP, per WebSocket è totalmente trasparente. Ok? Un secondo. Questo significa che le applicazioni che voi dovrete realizzare con WebSocket avranno il vantaggio di avere un protocollo binario molto compatto per il trasferimento dei dati e vedremo poi alcuni benchmark che abbiamo fatto quanto questo è vantaggioso, però dovranno comunque costruirsi un protocollo applicativo per scambiarsi i dati. Potete preferire JSON, XML, quello che volete, ma dovete comunque metterci un layer sopra voi. Ok? La domanda è se non conosco in anticipo la lunghezza del payload. Con WebSocket funziona così. Tu puoi spedire i dati man mano che ce li hai. La cosa fondamentale è che uno, questo bit, puoi dire questo è l'ultimo bit della sequenza di frame che ti sto spedendo. Quindi flippi questo bit qua e questo bit dice guarda che questo frame, questa serie di frame è correlata e questo è l'ultimo. Ok? Allora, vado a dire, ma è speciale di parlare anche di frammentazione alla delle due frame. Sì. Significa un messaggio di video due frame, eh? Esattamente. La domanda è si parla di frammentazione dei frame WebSocket? Sì, è possibile. Per esempio, se voi fate l'upload di un file, non è che mandate su un singolo frame WebSocket sulla rete. Non ha neanche tanto senso perché a livello sotto ci pensa TCP a fare la frammentazione di questo enorme file che state uploadando. Dipende dalle implementazioni. I browser si sono in qualche modo accordati su una lunghezza massima del frame di 8K. Sui server è normalmente configurabile. C'è la possibilità comunque che per evitare degli attacchi, dei denial of service attacked, per cui il server dovrebbe avere dei buffer enormi, ok? Come abbiamo visto, qui ci potete mettere un long. Allora, la quantità di byte che ci sta nel long più grande è immensa. Sono terabyte. Quindi, se voi mandate un frame di questo tipo, rischiate che il server allocchi un terabyte di un byte array e vada ovviamente in crash. Ovviamente i server hanno, insomma, quelli decenti, hanno tutti un meccanismo per prevenire questo problema. Il discorso è che il protocollo in qualche modo deve comunque permettere di spedire dei frame larghi perché se un domani arrivano i computer quantistici e la memoria non è più un problema, si può fare comunque. Vi dicevo, il protocollo è molto compatto. Il primo byte tipico di una sessione WebSocket comincia normalmente per 0x81 se è di tipo testuale, 82 se è di tipo binario. Esiste anche, c'è una parte che riguarda gli opcode, esiste anche un close frame che significa voglio chiudere la connessione. Questo close frame deve essere spedito da chi inizia la chiusura della connessione e deve esserci una risposta da chi riceve questo close frame iniziale. Questo permette di chiudere effettivamente la connessione TCP senza perdere i dati. Quindi è possibile, per esempio, io faccio l'upload di un file, dopodiché mando un close frame, però il server non chiude la connessione prima di avermi risposto. Sa che il client ha chiuso la connessione nel senso di spedire, ma può ancora ricevere. Quando anche il client riceve il close dal server, a quel punto può tirare giù la connessione TCP. Ok? C'è, vi faccio vedere molto brevemente, c'è un altro bit interessante, che è questo bit qua, che dice che se è presente, allora questi 4 byte che ci sono devono anche essere presenti e devono contenere una maschera. e questa maschera deve essere usata per offuscare tutto il payload. Quindi, se voi fate un packet sniffing a partire da un browser, vedrete dei dati qua che non hanno nessun significato. Cioè, voi avete spedito Hello World, ma non vedete qui scritto Hello World, vedete dei byte che sono praticamente casuali. Questo è dovuto al fatto che i browser sono obbligati a fare masking. Questo è stato uno dei punti di discussione più accesi che ci sono stati nel gruppo di esperti ed è dovuto al fatto che mandando una serie di dati casuali al server, se questi dati in qualche modo non quadrano, ce ne si accorge molto velocemente. E quindi il server ha una possibilità di chiudere la connessione prima possibile. Quindi questo è un motivo di sicurezza, insomma, è una buona pratica di sicurezza e è stata in qualche modo discussa ma alla fine accettata. Notate che il masking è normalmente unidirezionale, cioè è il client che fa masking ma il server normalmente vi risponderà in chiaro. Quindi è possibile fare un'analisi dello sniffing del protocollo HTTP, del protocollo WebSocket, però la parte in upload è più complicata perché bisogna fare il demasking, è un processo reversibile, implementato con uno XOR, però bisogna farlo. Qui ci sono due grafici che parlano di performance di WebSocket. Questo è un grafico fatto con il progetto Comet D, JDK 7, su macchine Amazon, su una macchina grossa dell'Amazon Cloud, protocollo HTTP. si vede che siamo riusciti ad arrivare a questa riga verde, diciamo, sono 50.000 client, quindi 50.000 connessioni leggermente di più, ha un rate di appena oltre 50.000 messaggi al secondo congetti, a 700 millisecondi di latenza media. Ok? Parliamo di 50.000 messaggi al secondo, sono cifre che normalmente non si vedono per le applicazioni web. Questi si traducono in circa 40.000 richieste e risposte al secondo con una latenza intorno media intorno ai 700 millisecondi. Adesso vi faccio vedere lo stesso grafico con WebSocket. Tenete solo che qua ogni riga sono centinaia di millisecondi. Questo è il grafico WebSocket. Qui la scala sulla latenza è in unità e siamo arrivati con 100.000 client la riga verde a 50.000 messaggi al secondo una latenza media di 4 millisecondi. Questo per farvi capire quanto efficiente è il protocollo WebSocket. Tutto questo tempo risparmiato lo risparmiate in banda di upload perché ovviamente ogni richiesta e risposta HTTP contiene gli header e sono tanti byte se li contate mentre l'overhead mass diciamo minimo del pacchetto WebSocket sono due byte e basta tutto il resto sono dati attivi e ovviamente risparmiando tutti questi dati che vengono spediti risparmiate anche CPU sul server che non deve fare il parsing di tutti questi header HTTP eccetera eccetera ok quindi il protocollo WebSocket è veramente molto più efficiente del protocollo HTTP HTTP se lo volete usare server to server per esempio è ottimo ok potete sostituire la classica connessione socket che avete fatto a mano col protocollo WebSocket con delle app già fatte per voi rating server to server va benissimo client to server ancora meglio con vi dicevo fate sempre attenzione che se il vostro client è su internet potrebbe essere che non funzioni perché gli intermediari che ci sono in mezzo non supportano WebSocket vediamo le app a disposizione dei browser chi di voi le ha già usate poca gente perfetto ma sono molto semplici avete un costruttore a cui dovete passare l'url del server WebSocket al quale volete connettervi dopodiché ci sono tre funzioni quattro funzioni diciamo onopen onerror simile a onclose e onmessage che vengono devono essere assegnate dall'applicativo dalla vostra applicazione esattamente come facevate con onreadystatechange per xml htp request dopodiché avete un metodo send che vi permette di mandare dei dati al server ora come sapete javascript fino a html5 anzi fino a qualche giorno fa più o meno poteva solo spedire dati in forma di stringa le specifiche html5 hanno espanso questa possibilità ci sono adesso due altri metodi uno che prende un array buffer che è la versione javascript di un byte array e un'altra che prende un blob che è la versione javascript di un file upload ok quindi potete fare file upload e mandare dati binari anche con websocket le app si stanno evolvendo html5 ancora come dire è un work in progress perché è una specifica talmente vasta che insomma si sta lavorando da tantissime parti su su html5 e websocket è parte di questo di questo insieme vediamo come fare tipica applicazione websocket new window websocket notate che il protocollo non è più http ma è il protocollo websocket vs ok se volete usarlo in versione ssl sarà vss ok dopodiché viene la tentazione di dire perfetto ho aperto la connessione adesso spedisco dei dati quindi scrivete una roba di questo tipo vs send hello word è ovviamente sbagliato perché chiunque di voi mastichi javascript sa che è asincrono di default quindi quando voi create l'oggetto websocket state dicendo comincia ad aprire una connessione http verso il server e poi dopo vediamo quando l'hai aperta qui non sapete neanche se la connessione ha avuto successo potrebbe anche essere che non ha avuto successo e che voi facciate una send a una connessione che è già stata chiusa quindi sbagliato quello che dovete fare è subito dopo avere istanziato l'oggetto websocket dovete assegnare la funzione onopen e normalmente anche le altre due e solo quando onopen viene chiamata dal browser a quel punto siete sicuri che la connessione websocket è stata aperta e che quindi avete la possibilità di spedire dati al server allo stesso modo onmessage è una callback che viene usata per ricevere messaggi dal server in modo completamente asincrono ci penserà poi il browser a chiamare le vostre funzioni onclose viene usata per in qualche modo essere notificati del fatto che la connessione è stata completamente chiusa ok quindi per esempio se uno degli intermediari non supporta websocket quando voi fate questo new window socket assegnate queste funzioni quando questo handler javascript ritorna il browser vi chiamerà onclose e vi dirà non sono uscito non sono riuscito ad aprire la connessione ok notate anche che non c'è nessun problema di concorrenza perché javascript è single thread quindi prima viene eseguito tutto questo blocco di codice l'handler ritorna al browser e dopo il browser chiamerà onopen o onclose a seconda del fatto che la connessione ha avuto successo oppure no veniamo adesso alle api lato server brutta notizia non esiste uno standard servlet 3.0 aveva creato uno standard per fare asincrono http asincrono si sta parlando di aggiungere delle api per websocket nelle servlet 3.1 purtroppo la data diciamo delle servlet 3.1 sarà per l'anno prossimo quindi per ora se volete fare qualcosa dovete per forza affidarvi a delle api proprietarie ora dei tanti server java che ci sono diversi server non java che implementano le api websocket node.js insomma ce n'è veramente un'infinità ruby eccetera nel mondo java jetty implementa le api websocket da circa un annetto tomcat ho visto qualcosa di in qualche modo stabile la settimana scorsa altri server sinceramente non ho visto molte cose quindi l'esempio che faremo insomma anche perché io ovviamente lavoro per la società che sponsorizza jetty quindi lo vedremo su jetty però vi assicuro che è di una facilità estrema lo vedremo con una demo jetty offre delle api sia per il server ma anche una api java per il client quindi voi potete usare le api di jetty per parlare websocket per esempio da un server a un altro ok usate un client su un server e sull'altro server avete la parte server che è in ascolto ok quindi avete sia client che server se fate un'applicazione swing adesso mi arrivano i pomodori veramente potete usare il client java per parlare websocket col server come sono le api server side in particolare quelle di jetty funziona così dovete creare una servlet che estende una servlet di jetty che si chiama websocket servlet e dovete implementare questo metodo do websocket connect dove dovete ritornare un'implementazione di questa interfaccia che anch'essa è una classe jetty l'implementazione di questa interfaccia è abbastanza semplice questa interfaccia websocket ha diverse sotto interfacce che determinano in qualche modo il tipo di messaggio websocket al quale voi siete interessati in particolare se siete interessati a messaggi testuali l'interfaccia si chiama on text message e implementate come vedete tre metodi che sono molto simili ai metodi che ci sono nelle api javascript l'unica differenza è che avete un altro oggetto che si chiama connection che è l'oggetto che userete per spedire e quindi è la parte attiva della connessione delle api che avete mentre queste callback sono ovviamente la parte passiva cioè queste vengono chiamate quando il client manda qualcosa voi usate connection per spedire qualcosa demo allora vediamo se ce la faccio perché ci vedete? allora partiamo e usiamo maven per creare un archetype uno scheletro di applicazione web ok ci sono 538 archetype diversi su internet fidatevi quello che ci interessa a noi è il 343 spero sì scegliamo la versione 5 gruppo id mettiamo it.code motion come artifact id ci mettiamo websocket demo ok cd websocket demo a questo punto abbiamo creato il nostro scheletro di progetto lo importiamo nel nostro id preferito allora come vedete c'è una interessante c'è una parte esatto così va molto meglio vedete che mi ha pre realizzato il package e c'è una index.gsp con un web.xml dentro webinf webinf qua allora prima cosa da fare è creiamo la nostra servlet quindi creiamo la nostra servlet estende websocket servlet non è aggiungiamo una dipendenza in maven dipendenza che voglio aggiungere va bene prendiamo questa poi la andiamo a correggere vediamo come reggere la dipendenza usiamo 72 ok e ovviamente questo è l'effetto demo per cui non vede la la classe può averlo provato dieci volte prima ma niente va bene allora come vi dicevo qua dovete ritornare un oggetto websocket scusate facciamo un attimo qua un cambio ci deve essere qualcosa con la rete comunque mywebsocket ok questa classe la creiamo anche questa implementerà l'interfaccia websocket on text message e implementerà i tre metodi che abbiamo visto prima adesso andremo così è un peccato che non ci sia questa potremmo fare così oh perfetto perfetto ok allora implementiamo i tre metodi e ci mettiamo semplicemente dei system out ok dopodiché andiamo a implementare la parte invece sulla parte web invece di metterci hello world oppure ci mettiamo websocket demo ci mettiamo un bel button che fa click me e che sull'on click chiama una funzione demo la funzione demo la scriviamo qua dentro quello che dobbiamo fare come vi avevo fatto vedere nelle slide è creare l'oggetto websocket e ci metto come protocollo vs localhost 8080 usiamo per esempio un path che è quello di vs ok dopo di che dobbiamo attaccare tutte le callback ok come quindi on open e qui ci mettiamo semplicemente window console console info open os on message uguale function event e poi window console punto info message uguale event punto data ok questo vedete ci vedete se no ingrandisco un po' il font ingrandisco un po' il font meglio allora come vedete l'on message riceve un parametro che è l'evento a questo parametro è attaccato un attributo che si chiama data che contiene il contenuto del pacchetto websocket in questo caso c'è poi la possibilità di esplorare meglio questo evento ha degli altri attributi per cui riuscite a capire se è binario non binario eccetera anche sull'oggetto websocket avete questi diciamo discriminatori che vi aiutano però diciamo noi adesso facciamo un esempio con le stringhe usiamo data manca l'ultima cosa che devo mappare la mia servlet dentro web.xml qui tolgo un attimo la session config questo allora scrivo servlet come name la chiamo websocket come servlet class ci metto la mia classe la mia websocket servlet ok non mi resta che mapparla con un servlet mapping ovviamente qua ci metto websocket e qua ci metto slash vs ok questo vi permette in qualche modo di avere la vostra applicazione fare servire dei file su degli altri path e rispondere a websocket su questo path esclusivamente ok manca un'ultima cosa dobbiamo far girare tutto questo ambaradan come facciamo usiamo un altro un altro diciamo feature di jetty che è il maven jetty plugin che mi permette di eseguire delle applicazioni web da command line e di tenerle sempre sodd'occhio quindi il plugin fa redeploy automatico quindi qua org vediamo la versione del maven plugin poi lo configuriamo gli diciamo di fare uno scan intervall ogni secondo per vedere se è cambiato qualcosa nella web application dopodiché configuriamo la web application e gli diciamo che il context path viene deployato su slash ok ora la legge di Murphy dirà che se io qua faccio maven clean install questo progetto dovrebbe compilare perfetto e se faccio maven jetty run lancio un server jetty sulla porta 8080 esatto che ogni secondo mi in qualche modo va a vedere se l'applicazione è cambiata dopodiché su un browser ci metto localhost 8080 quello che succede è che vedete c'è la nostra pagina web con il bottone click me che apre una connessione web socket ed effettua uno scambio web socket ora vedete qua sotto c'è anche firebug se faccio click me vedete che sulla window console che avevo scritto nel javascript mi è comparsa la open e se vado a vedere sul server anche mi è comparsa la open ok ora io invece che mandare un messaggio dal client mando un messaggio dal server quindi modifico la mia web socket my web socket e dire quando arriva l'on open non solo stampa open ma prendi la connessione e send message hello from server ok questo richiede un try catch lasciamo print stack trace è una demo non mi tirate le zucchine marce che sono che vado bene così dopodiché cosa faccio vado sul web xml che è monitorato dal plugin di jetty lo cambio lo risalvo vedete ha fatto redeploy della web ha ricompilato le classi ha fatto redeploy poi a questo punto se torno qua faccio click me e quello che vedo magari faccio click me non ho messo la callback vediamo se ho degli errori sul server no ho la close che è normale mi sa che forse sul client non ho messo la system out vediamo se c'è ho scritto giusta ho scritto giusta dovrebbe tutto essere giusto ma non la vedo va bene diciamo che lascio questa è ovviamente la parte marti grazie credetemi funziona perché quei grafici che vi ho fatto vedere non sono grafici fasulli che ho disegnato all'istante sono numeri reali quindi li abbiamo visti allora tracciamo un po' di conclusioni web socket programming non è impossibile ok le api sul browser sono molto semplici le api sul server sono in modo equivalente molto semplici vi in questo momento non esiste uno standard ma ci sarà perché il web sta andando in quella direzione quindi state sicuri che le servlet verranno aggiornate per supportare web socket state attenti a questi due problemi old browsers quindi per esempio internet explorer non supporta non supporta web socket web socket ancora ci sono una serie di plugin che si possono aggiungere per dare supporto web socket e state anche attenti a questi signori qua che sono nascosti ma insomma se vedete che avete realizzato un'applicazione web se la fate intranet probabilmente non avete problemi se la fate sul web avete bisogno in qualche modo di fare un fallback e dire ah ma non posso usare web socket web socket devo provare a usare qualcos'altro per far funzionare lo stesso la mia applicazione ora questo significa che web socket è a un livello così basso che voi avete comunque bisogno sopra cioè si semplificano le cose se voi sopra ci mettete un framework che vi riesce a fare questo fallback in modo automatico cioè dire provo la connessione web socket se non ce la faccio faccio un fallback su http con le tecniche http note per fare web messaging in particolare come di è un framework che fa esattamente questo prova web socket se non ce la fa fa il fallback su http in modo completamente trasparente per la vostra applicazione voi usate ovviamente delle apri diverse usate le apri del framework però avete la sicurezza che la vostra applicazione non verrà cambiata nel corso del tempo i vari magari salta fuori che aggiornano un router internet proprio sulla tratta interessata dalla vostra applicazione e siete aggiornati ok qui ci sono una serie di reference li trovate poi sulle slide che vengono approvate e se ci sono domande non so come sono a minuti li ho finiti sono qua in giro comunque grazie a tutti Grazie a tutti.